È cresciuta nella stagione 2016 l'attività del servizio Spiagge Sicure nell'Alto Garda e Ledro. Tra fine maggio e fine settembre sono state attivate complessivamente 9 postazioni sulle spiagge del Lago di Garda, 4 sul Lago di Ledro e 2 sul Lago di Tenno, per un totale di 1.194 giornate lavorative a terra e 147 giornate lavorative con gommoni. Nell'ambito delle zone oggetto di sorveglianza si è verificato un incidente mortale a causa di un infarto. Per quel che riguarda gli interventi ce ne sono stati 10 per principi di annegamento, 2 dell'ambulanza, 381 per recupero imbarcazioni e 586 per recupero surf. La ditta paltatrice ha organizzato anche 8 dimostrazioni di salvamento in acqua, con prove pratiche di salvataggio. Il consuntivo del servizio per il 2016 ammonta a 274.000 euro, per 115.000 euro a carico del Comune di Riva, 90.000 a carico di nago torbole, 44.000 a ledro e 24.000 a carico di tenno. Grazie. Grazie. Grazie.